Una fuga in avanti che rischia di non arrivare al traguardo. Lo stop almeno per il momento alla proposta di sfiducia al sindaco Firetto depositata all'ufficio di presidenza dalla consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Marcella Carlisi arriva dagli stessi banchi delle opposizioni. L'esponente di Forza Italia William Giacalone boccia l'iniziativa della pentastellata. Non c'è alcun ragionamento politico dietro, anche la città non capirebbe, sottolinea ancora Giacalone, il percorso va tracciato con senso di responsabilità e in assenza di condivisione di un vero progetto amministrativo si tradurrebbe in un esercizio privo di utilità per gli agrigentini. C'è però chi la pensa diversamente come il consigliere indipendente Salvatore Borsellino che ha già firmato la proposta di mozione. Sono trascorsi i tre anni da quando ci siamo insediati, spiega l'ex Gimignano, sin dall'inizio di questa consigliatura abbiamo sempre cercato di fare un'opposizione costruttiva e propositiva. Abbiamo presentato interrogazioni, mozioni, atti di indirizzo, tutte disattesi. Tuona Borsellino che poi aggiunge, possiamo documentare svariate proposte votate all'unanimità dell'aula, esempio lampante, i bagni pubblici inesistenti e mai aperti. Abbiamo anche richiesto che venisse discusso in aula l'attuazione del programma politico amministrativo. Ad oggi nulla è stato fatto. Sempre più convinta di avere fatto la scelta giusta, Marcella Carlisi, bisogna dare uno stop politico a questa sindacatura senza aspettare sentenze da altri enti, che afferma il fantastico programma presentato da Firetto non è stato perseguito, la stampella del protagonismo civico non può reggere un comune. Tanti errori e l'elenca, dal piano della cartellonistica ancora sospeso alla mancata progettazione del sistema della raccolta differenziata, che sta creando non pochi disagi e sicuri danni alle tasche degli agrigentini. Bisogna firmare la sfiducia, conclude Carlisi. Per farlo occorrono 12 firme. Grazie. 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 Grazie.